Sono felice che tu abbia ricevuto un lavoro decente, Canada. È tranquillo, è molto pulito. Grazie, è stato difficile per un lavoro come questo. Pensavo che il negozio fosse chiuso. Wow, ma che bel pusticino, Canada! Ovviamente non ti darà fastidio se sono qui, giusto? Giappone, il bar è chiuso, esci di qui. Oh, non vedo cosa c'è di male a far visitare un tuo amico. E poi c'è anche il Regno Unito. Non ricordavo di essere amico con te. Oh, che peccato. Allora te lo dovrò far ricordare. Cosa? Canada, stai bene? Dovreste conoscere questo posto per capire che io governo queste stradette. Che mi permette di entrare dove voglio. E se me lo farete fare, beh, allora me ne andrò. Ma prima lascerò un souvenir. Ah, molto meglio ora. Oh, è stato divertente. Grazie per avermi fatto entrare. Bloody hell, ha fatto un casino. Eh? Canada? Ora, ora vado via. Tempo di cacciare. Oh, io vado a prendermi un drink. Vuoi qualcosa? Eh, mi va bene tutto. Ma che... Che cos'era? Sud? Se è uno scherzo non è divertente. Le mie cuffie si sono rotte. Stru... La scorsa notte, alle due di notte, i residenti della casa hanno trovato due corpi appartenenti ai gangster Giappone e Sud Corea. Più assassini, eh? Regno Unito, io... Io devo andare. Aspetta! Aspetta! Ehi, tu! Ho alcune domande per te. Ehi! Tu stai qui! Fermati qui! Ti ho preso! Sapete una cosa? Ecco i fail! E in questo momento Giappone ha appena realizzato che le cuffie sono più importanti di Sud Corea. No, ma poi è stupenda la faccia di Canada, tipo... Hello! No, ma tipo... Regno Unito... Mi ha appena toccato. Ma a parte che Giappone è un pochino una figlia di... Pippi. Eh, ma tipo... Rip tavolo, cioè! Vabbè, grazie per la visione. Ciao!